Buongiorno, bentrovati ad una nuova puntata di Buongiorno Unasca, se dovete fare la patente della moto, mi raccomando rimanete sintonizzati perché oggi parliamo proprio di questo perché è cambiato l'esame di pratica proprio per prendere questo tipo di patente e chi meglio del segretario nazionale dell'autoscuola Emilio Patella, buongiorno Patella per parlarne con noi, buongiorno. Siamo quindi con il segretario nazionale dell'autoscuola di Unasca, c'è stata questa novità, è arrivato finalmente questo decreto, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, era un decreto che stavamo attendendo perché spiega nell'operatività come effettuare queste modifiche che so arrivano dall'Europa, nel senso che è una richiesta che è arrivata appunto dalla comunità europea e volevo andare subito nel merito del perché delle modifiche in particolare per la patente della moto. Sì, già avevamo parlato del decreto che doveva uscire, c'era un clima di incertezza, oggi finalmente abbiamo qualcosa di certo. Il perché nasce dalla direttiva comunitaria, quella che abbiamo applicato nel gennaio del 2013 e la stessa direttiva fissava già dei criteri per effettuare la prima parte della prova moto, quella su area chiusa perché poi c'è la parte in esterni che rimane uguale, quella direttiva diceva che c'erano 5 anni di tempo per adeguare. Noi avevamo scelto in Italia la soluzione di effettuare esercizi a velocità massima di 30 km e naturalmente il tempo è scaduto, bisogna passare alla velocità di 50. La velocità di 50 comportava e comporta la necessità di adeguare spazi, trovare piste diverse. La soluzione scelta, avevamo accennato quando ancora non era certo probabilmente soluzione spagnola, infatti è quella, e sostanzialmente porta anche a una semplificazione. Non ci sono più piste diverse tra la patente A1, quella sostanzialmente al 125, rispetto alla A2, alla A, cioè quella della moto di cilindrata maggiore. Qui abbiamo invece lo stesso percorso, quindi tutte e tre tipologie di patente faranno gli stessi esercizi, che sostanzialmente sono due, quello che cambia è il mezzo col quale questi esercizi vengono fatti. È bene dire che la finalità di questa prova è proprio, il candidato deve dimostrare la capacità di saper manovrare quel veicolo con quelle caratteristiche, quindi risponde pienamente a questa tipologia, a questa necessità. Due esercizi sostanzialmente, uno che va effettuato a bassa velocità. Allora io infatti ho letto anche guardando diciamo le immagini della pista, un esercizio che mi sembrava, mi sembrava quasi ci fosse un errore insomma scritto, perché avevo letto tempo non inferiore ai 15 secondi. Certo, molti l'hanno interpretato così, in verità è proprio così. Lo scopo di questo esercizio è dimostrare sostanzialmente equilibrio, infatti c'è una prima parte dell'esercizio che è una prova di slalom e la seconda è il passaggio in corridoio stretto tra dei mirigli. Allora tutti sappiamo che se passiamo a una certa velocità è piuttosto semplice, se invece passiamo a velocità molto ridotta è più difficile, quindi la prova è quella velocità ridotta. Un po' come quando andiamo in bicicletta diciamo, se andiamo molto piano è un po' più difficile. Esattamente, se la faccio in 10 secondi non va bene, sono andato troppo veloce, se la faccio in 16, 17, 18 secondi va bene. Qualcuno dice allora ci metterò un'ora. Sfido chiunque a provare a rimanere in sella un'ora, perché non ce la fa nessuno. Quindi l'esercizio è un esercizio sensato e ha proprio questo scopo. Secondo invece è quello della velocità di 50 km orari, è quello che sostanzialmente ha portato al cambiamento. È molto più impegnativo. Qui è diverso, qui va effettuato a una certa velocità proprio per dimostrare, sempre con uno slalom, questa volta più corto, e soprattutto una prova di accelerata, evitamento di un ostacolo e frenata successiva, di essere in grado di effettuare l'esercizio, cioè dimostrare capacità, torno a ripetere, di governare quel veicolo, sia nello slalom, sia soprattutto evitare l'ostacolo, che è un movimento piuttosto brusco. C'è stato, se non sbaglio, un cambiamento rispetto all'ipotesi iniziale, ovvero non il focus sulla velocità, ma sul tempo, che in realtà vuol dire un po' la stessa cosa. È la stessa cosa, cioè il Ministero poteva scegliere di effettuare l'esercizio con la vecchia modalità, inalzando la velocità, mettendo gli strumenti di controllo della velocità. Si è pensato che questo fosse in parte macchinoso, omulagazione dello strumento che misura la velocità, continua manutenzione, eccetera, e che comunque andava poi a limitare una velocità istantanea in quel preciso momento. Immagino anche l'allievo che invece di guardare dove deve andare, guarda lo strumento per vedere se ha raggiunto meno. Qui invece viene diluito su tutto il percorso, la velocità, non è più una velocità istantanea, è la velocità media. Se io riesco a effettuare questo esercizio entro 25 secondi, vuol dire che la velocità di percorrenza è quella giusta. Certamente occorre da parte del candidato un esercizio, cioè non dovrà farlo guardando il cronometro, ma dovrà ormai avere acquisito, provando e riprovando, diceva Galileo, quel tipo di modalità. Una semplice considerazione, al di là della tecnica, al di là della conformazione della pista, è chiaro che stiamo elevando gli standard di sicurezza e di preparazione. Se io devo effettuare quell'esercizio non posso pensare di farlo la prima volta 50 all'ora, se no mi schianto. Questo esercizio lo devo provare prima a velocità ridotta, poi via via. Questo vuol dire sicuramente che ci vorrà un tempo maggiore per la formazione, le preparazioni, probabilmente un numero di guide o comunque di esercitazioni superiori. Ma questo è solo un bene per la sicurezza strade, quindi da questo punto di vista credo che siamo perfettamente allineati. Ecco, entrando poi nel merito, in chiusura diciamo, entrando nel merito lato non utente che deve fare la patente, ma lato invece autoscuola. Immagino che non sia semplicissimo trovare delle aree che siano comunque adeguate per questi tipi di esercizi che mi sembrano piuttosto complicati. Se non lo era neanche prima, ha maggior ragione quando c'è un cambiamento. Sì, qui abbiamo parlato nei mesi scorsi della necessità di cominciare a muoversi per reperire degli spazi. Abbiamo parlato della convenzione, o meglio della lettera che avevamo scritto all'Anci, cui Anci comunque aveva dato un accenno di risporta favorevole per reperire questi spazi. oggi, finalmente, possiamo andare nel Comune e dire che questi sono gli spazi che necessitano. In molti casi, o meno in alcuni casi, sicuramente le piste preesistenti vanno bene come spazi, si tratta solo di ritrazzare i percorsi. In altri casi invece bisognerà reperirne di nuove e quindi questo sarà un lavoro nei prossimi mesi. Con il Ministero si è parlato di un periodo transitorio per dare la possibilità A. di smaltire le pratiche già prenotate, eccetera, B. per adeguare nuove piste. Però sostanzialmente si sta ripetendo quello che è successo nel 2013, quando le piste erano ancora diverse, erano sostanzialmente gli esercizi che oggi si utilizzano per la patente del ciclomotore. La patente AM continuerà a avere ancora le vecchie modalità. Quindi, come nel 2013, ci sarà un momento un pochino di assestamento. Però dopo ci dovrebbe partire e andare spediti. Allora, io, segretario, la ringrazio per averci spiegato nel dettaglio, devo dire in modo molto chiaro, tutte queste novità che penso interessino da vicino chi appunto deve fare la patente della moto. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, ma rimanete ancora sintonizzati perché passo la parola, la voce a Manuel Picardi, sempre per un'asca, perché dall'Europa ci racconta appunto questo caso spagnolo da cui in realtà il decreto si ispira. Quindi continuate a guardare le nostre immagini, vi do appuntamento alla prossima puntata e per ascoltarci continuate a seguire i nostri canali, sia a web radio sia online con il tragichistallo.it e per contattarci invece trovate tutti i riferimenti in sovrimpressione. Arrivederci a tutti, alla prossima. Siamo in collegamento con Manuel Picardi, vicepresidente dell'EFA, la Federazione Europea delle Autoscuole e con Enrique Lorca Sanchez, il presidente dell'Associazione Regionale delle Autoscuole della Mursia e membro della Giunta Direttiva della Confederazione Nazionale delle Autoscuole. Picardi, il nostro nuovo esame pratico per la patente della moto segue il modello spagnolo. Come mai abbiamo fatto questa scelta? Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo fatto questa scelta perché abbiamo fatto un sondaggio, una ricerca su quali fossero i sistemi realmente impiegati nei vari paesi europei e il modello spagnolo ci è sembrato quello più semplicemente applicabile anche nel nostro paese, dove abbiamo un territorio complesso ed è difficile recuperare lo spazio a sufficienza nelle varie motorizzazioni o piste private. Quindi abbiamo seguito il modello spagnolo che mi sembra negli ultimi anni abbia ottenuto buoni risultati, ma adesso Enrique ci spiegherà meglio nel dettaglio. Dottor Lorca Sanchez, da quanto tempo utilizzate un nuovo metodo per l'esame pratico della patente moto in Spagna? Buongiorno, buon dia. Nosotros implementamos este nuovo sistema desde el 8 de diciembre de 2009. Nello specifico, quale soluzione avete adottato per rispondere alla richiesta dell'Unione Europea? Si, lo che primero tuvimos que hacer logicamente era adaptar nuestras pistas, nuestros terrenos porque necesitamos mayor espacio y luego también hicimos una adaptación peculiar quizá de la directiva, perché la directiva en una delle pruebas exige che una parte del recorrido se haga a 30 km di velocità, 30 km per ora come minimo, e una parte a 50 km. Eso requería tener un dispositivo, un cinemometro, che chiamavamo noi, per medire la velocità. Che hicimos in España o che hizo il governo, il Departamento di Tráfico? Pues bueno, applicare una fórmula fisica, la velocità è ugual a spazio partito per tempo, y entonces lo que ha hecho ha sido traducirlo a tiempo. Por lo tanto, el alumno para superar esa prueba debe realizar ese recorrido o esos recorridos en un tiempo máximo de 25 segundos. Infine un ultima domanda, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa soluzione e se avete visto magari delle criticità, penso ad esempio a un caso di particolare condizione meteorologica. Correcto. Las ventajas, in quanto a lo che è il sistema di traducirlo a tempo, è che non necessitiamo di ese dispositivo, di esa pistola per medire il tempo, la velocità, perdone, per medire la velocità. E in quanto a le ventajas, con respecto al modello anterior, sono unos conductori più seguri di fare tutta questa formazione, perché è più exigente. In quanto a lo che mi comentabas del tempo meteorologico, sì che è vero che noi abbiamo, non noi, ma quali una difficoltà aggiudata, perché quando la pista sta mojata per lluvia, per esempio, la velocità, logicamente, per conduzire di forma segura non è la mia, quindi necessitariamo più tempo. Lo abbiamo solicitato da la Confederazione Nacional de Autoescola al Departamento di Tráfico del Gobierno, che in esas condizioni pudiessi ampliare, invece di 25 secondi come máximo, che a lo mejor fossero 27, per esempio. Però non ha contestato che non può essere, la directiva marca lo che marca, e, quindi, lo che sì che facen è dare la opzione al candidato, al alumno, che in esas condizioni, se vuole examinar, si vuole examinar, si può examinar, bajo la premisa di 25 secondi come máximo, e, se non si vuole examinar, non passa nada, non si examina e non perde lo che è la convocatoria, non perderia il examino.